Ola flamingo, ciao venicotteri e benzerati in questo nuovo video Qua chi è? Charlotte E oggi siamo qui a fare un altro ASMR Perché avete davvero bombardato tutti i like Siete davvero fantastici E perciò rieccoci di nuovo qua Di nuovo, di nuovo Non so se farò anche un terzo ASMR Se arriviamo a 3000 like Ne farò un altro Ok? Iniziamo Ho preparato un po' di cose per voi Il tema natalizio, bevana, capodanno, insomma Festivo Mi vergogno Mi vergogno tantissimo Non prendetemi per pazza Ok? LOL Surprise Mi sta rilassando a me Ok Allora Cercherò di parlare C'è pure questa sorpresina Qui Già con gli adesivi Wow Fantastico Wow Fantastico Big bubble Questa la teniamo per dopo Perché voglio fare una cosa Allora 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 García Pompocchina Allora Allora Toge You're surprised ơn un altro piccolo ok adesso ossidiamo C'è un braccialetto qua di Miraculous Wow, bellissimo Delle uova Apriamole Il cioccolato è sempre la migliore Buono C'è gli adesivi qua Vedete? A forza di mangiare mi è venuta anche di nuovo sede Ora vi voglio far vedere la calza più grande E se si pide un bottone qua Guardate cosa succede C'è la sorpresione qua Con la matita e la gomma Carameli Sono tantissime Apriamo il panettone Grazie